Si è svolta ieri pomeriggio in sessione straordinaria di prima convocazione una riunione del Consiglio Comunale di Siderno. Nell'apposita stanza delle adunanze del Comune sono stati affrontati tre punti all'ordine del giorno. Consiglio Comunale con tre punti all'ordine del giorno ci avviamo alla fine dell'esercizio finanziario 2017 e quindi abbiamo i primi due punti all'ordine del giorno. Il primo è una ratifica di una variazione di giunta già presa con una delibera di giunta comunale. Dovrà essere stasera ratificata come per legge dal Consiglio. Il secondo invece è una variazione di bilancio che verrà presa direttamente dal Consiglio. Sono due punti abbastanza normali in questo periodo dell'anno e dovrebbero essere senza difficoltà perché sono due variazioni abbastanza usuali, non vi sono voci particolari all'interno delle variazioni. Si fa semplicemente un riordino di conti per consentire il raggiungimento degli obiettivi di bilancio. Terzo punto all'ordine del giorno invece è la nomina della Commissione Pari Opportunità e quindi si procederà alla nomina di questa Commissione. Credo che un Consiglio comunale mi auguro sereno senza particolari patemi d'animo. Un Consiglio comunale che si era annunciato quindi tranquillo in realtà ha visto alcuni momenti di tensione quando alcuni consiglieri di minoranza hanno additato le variazioni al bilancio come sinonimo di difficoltà di programmazione. Secondo Sgarlato, in primis, si tratta di un fallimento delle previsioni sul punto ha replicato l'assessore a ramo Gianni Lanzafame che ha invece rimarcato il fatto che si tratta di un semplice riordino. Scintille quando la discussione si è soffermata su un possibile invio di una commissione d'accesso al Comune. Scambio di battute e di punti di vista a cui ha messo fine l'intervento del sindaco Pietro Fuda il quale ha sostenuto che lascerà un'amministrazione in ordine quando andrà via.